È stata una sfida enorme ma alla fine ce l'abbiamo fatta ed è stato come trovare un ago in un pagliaio. Stephen Dawson, ministro dei servizi di emergenza dell'Australia occidentale, annuncia così il ritrovamento della minuscola capsula radioattiva che ha messo in allarme tutto il paese. Caduta a metà gennaio da un camion che trasportava attrezzature per estrazioni minerarie, la piccola capsula di appena 6 mm per 8 contiene cesio 137, sostanza estremamente pericolosa per l'organismo umano anche in quelle piccolissime quantità. In un'ora infatti emette radiazioni pari a 10 raggi X. La capsula, spiega Darren Clem, capo dei servizi di emergenza, è stata ritrovata a sud di Newman, 1.100 km da Pert, circa 200 dalla miniera di ferro da cui era partito il camion, ma poteva essere ovunque, lungo quei 1.400 km, battuti palmo a palmo dagli specialisti della protezione civile australiana, una distanza pari all'intera Gran Bretagna. Sembrava una sfida impossibile da vincere, ma alla fine, grazie alle attrezzature in grado di rilevare le radiazioni emesse dalla capsula ce l'hanno fatta. Si trovava a due metri circa dal bordo strada e sembra che non si sia mai spostata da lì. Ne che abbia causato danni alla salute, dice il ministro della salute Andrew Robertson, al momento non ci sono segnalazioni di malori e così tutto è bene, quel che finisce bene.